Speriamo che appunto che si lasciano un po' liberi di lavorare e di riaprire. Sono passati altri dieci giorni dal nostro incontro con Stefano Lanini, titolare del River Piper a discoteca dell'Alto Casentino che esiste ormai dal 1969. Lanini è anche presidente del SILB Arezzo. Ancora non ci sono notizie certe in merito alla riapertura di questo settore fermo da 17 mesi. In provincia di Arezzo sono circa 20 le discoteche che attendono di riaprire. Oggi a Roma la manifestazione del mondo della notte e del divertimento tra i più dimenticati in questa pandemia. L'ipotesi per una riapertura è il 16 di luglio. Abbiamo avuto poca attenzione, siamo stati anzi dimenticati dalle istituzioni, anche se abbiamo fatto pressioni, abbiamo lavorato giorno e notte per fare un protocollo scientifico che aiutasse la nostra riapertura, concordandolo con i professori universitari Bassetti, Lopac e Locascio. Abbiamo dato un contributo, abbiamo proposto anche dei test, diciamo uno a Milano e una a Gallipoli per provare appunto la riapertura. Erano stati approvati anche dal sindaco Sala e dal presidente Emiliano, però Speranza non ci ha ascoltato e non ci ha risposto, diciamo, per cui non sono stati potuti effettuare perché non abbiamo avuto, diciamo, il consenso del ministro.